Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti al cocco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Ingredienti sono farina di cocco, zucchero e un albume. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina di cocco, lo zucchero e l'albume. Ed azioniamo il bimbi per 1 minuto e 30 secondi a velocità 3. L'impasto è pronto, formiamo i biscotti. Abbiamo rivestito una teglia con carta da forno, adesso inumidiamo un attimo le mani. Prendiamo un po' di impasto e formiamo una pallina. Compattiamola bene e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno. E proseguiamo così per tutto il resto del composto. Dopo aver formato tutti i biscotti, cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 10-12 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti al cocco, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!